Please approach SCP-173 for testing Prima di iniziare con questa missione, se sto parlando, è che la prossima missione, non questa, ma la prossima che dovrebbe essere l'ultima Vedete i tasti nello schermo, perché? Perché col joypad, con il cellulare, se per titoli di codice e per crediti è un problema Perché praticamente, se si spegne il joypad, il gioco crescia e dovrebbe andare a rifare la missione Quindi sarà per me complicato, nell'ultima missione, fare la missione col touch Solamente questo lo vorrei dirvi Per il resto, vi auguro buona missione I don't like, don't like, don't like, don't like Sal, you there? Anthony! I'm getting out! My arraignment's today! Great! Yeah, but I got this notion that the spirits don't want me to make it to court With me in here, who's stopping them from taking over? Hey, they'd have to get by me first, Sal Sì, Tonni, quattro. C'è sicuramente che ho messo il giorno in porto. Hey, i guardi sono arrivati ora. I'll see you in fronte. Ciao, c'è sempre che la faccia. Che riempire, Giubo! Grazie. Lock it. Look out, tough guy. Holy shit. Sì, sì. The legal roadblock reported in the area. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.